Musica Bentrovati in questa edizione di Licata News, in apertura ci occupiamo di Tari, il prossimo 2 luglio a Palazzo di Città si terrà un vertice tra l'amministrazione e la engineering. Sul tavolo la questione Tari, il cui saldo è stato posticipato al 15 luglio. Ce ne parla in questo servizio Giuseppe Cellura. La sospensione momentanea disposta dal vecchio Consiglio Comunale aveva posticipato il pagamento del saldo Tari al 15 luglio, data che si sta rapidamente avvicinando. Da alcuni giorni sono ripresi i contatti tra la nuova amministrazione e la CNA, associazione di categoria, che insieme alla Fenapisi era maggiormente battuta per arrivare a una rimodulazione della tariffa. Abbiamo sentito l'assessore con delega alla gestione dei rifiuti Carmelo Sambito, il quale ci ha spiegato come il prossimo 2 luglio si terrà un incontro con la engineering SPA. Aspettiamo i dati che ci porteranno, anche perché non va dimenticato che il servizio è esternalizzato e pertanto bisogna attendere il lavoro della società di riscossione. Carmelo Sambito ci ha spiegato inoltre come dovremmo arrivare ad un ribasso, però è chiaro che fino a quando non avremo in mano i dati della società di riscossione dei tributi, non possiamo azzardare previsioni sull'incidenza dell'abbassamento delle aliquote. Un'apertura insomma c'è e sulla base di questo si lavorerà per limare i dettagli e arrivare ad una soluzione che possa rappresentare un punto di incontro tra le esigenze del comune da una parte e quelle dei commercianti e degli artigiani dall'altra. Siamo fiduciosi che si possa giungere ad un risultato, commenta Piero Caico, delegato locale della CNA. La scadenza si avvicina e abbiamo chiesto un incontro all'amministrazione per tentare di trovare una via d'uscita. Vedremo come si evolverà la situazione. L'incontro di giovedì tra amministrazione ed engineering potrebbe già fornire delle indicazioni importanti. Se le augurano commercianti e artigiani che fin dalle ore successive all'approvazione delle aliquote si erano messi di traverso. Il ministro dell'interno Angelino Alfano oggi alle 16 presiderà presso la prefettura di Agrigento una riunione con alcuni sindaci dell'area grigentina interessati al piano di azione, coesione, programma nazionale, servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti. Nel corso dell'incontro, aperto alla stampa, il ministro Alfano illustrerà i fondi nazionali finanziati e assegnati dal ministro dell'interno ai comuni del distretto di Agrigento per un importo di 1.896.000 euro. Il comune di Licata informa che sono in pagamento i libri di testo 2012-2013 scuola media e scuole superiori che è possibile riscuotere presso la banca di San Francesco, sita in piazza Sant'Angelo. La cronaca tre operai di una ditta grigentina sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di polizia di Licata con l'accusa di gestione di discarica di rifiuti non autorizzata in concorso. Finiti i lavori di scavo del manto stradale andavano a scaricare il materiale costituito da cumuli di terra e detriti in un'area che era priva di autorizzazione per il deposito e conferimento dei rifiuti. Lo hanno scoperto gli agenti del commissariato di polizia di Licata che nel corso di alcuni controlli mirati alla repressione del fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti hanno denunciato all'autorità giudiziaria tre persone, due licatesi e un 31enne di grotta, poiché ritenuti responsabili del reato di gestione di discarica di rifiuti non autorizzata in concorso. Il personale del locale commissariato in collaborazione con quello della divisione polizia anticrimine della Questura ha effettuato un servizio al fine di accertare un eventuale conferimento illecito di materiale di risulta provenienti dalle opere di scavo del manto stradale relativi a dei lavori pubblici in corso di esecuzione a Licata. Gli agenti hanno notato nell'area la presenza di mezzi e operai di una ditta grigentina intenti ad effettuare scavi e la presenza di un escavatore che stava caricando su un autocarro con cassone ribaltabile laterale i detriti. Dopo il carico, lo scarico del materiale che avveniva in un'area di circa 6.000 metri quadri costituita da terreno incolto e dove erano presenti circa 15 cumuli di terra e detriti depositati precedentemente. Ma dagli accertamenti è risultato che l'area era priva di autorizzazione per il deposito e conferimento di materiali e pertanto è stata posta sotto sequestro. I poliziotti hanno proceduto anche al sequestro del mezzo pesante utilizzato per il trasporto del materiale di risulta mentre per i tre operai è scattata la denuncia per gestione di discarica di rifiuti non autorizzata in concorso. L'incidente stradale sulla statale 115 all'altezza del Lido di Marinella, Porto Empedocle. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 della notte quando due auto, una BMW Serie 1 e una Volkswagen si sono scontrate frontalmente. Feriti lievamente i conducenti delle due vetture, un uomo e una donna, che sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento a bordo delle ambulanze del 118. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Una lunga serie di incendi notturni nei comuni di Licata e Palma di Monte Chiaro. L'ultimo episodio si è registrato a Licata e riguarda un bar del centro dove all'alba di sabato sono stati incendiati i tavolini e le sedie. Un caso che ne segue tanti altri simili che hanno colpito professionisti, commercianti ma anche casalinghe e pensionati. A Palma di Monte Chiaro invece l'ultimo incendio registrato ha danneggiato l'automobile di ML, queste le iniziali preside dell'Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi di Licata. Le fiamme sono state spente dai poliziotti del commissariato di Villaggio Giordano, ancora sconosciute le cause del rogo. Cambiamo decisamente argomento, nel corso di una conferenza stampa ospitata al Carmine sono stati resi noti i risultati del progetto in comune, formazione e aggiornamento per dipendenti pubblici. Il servizio di Giuseppe Cellura. Sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa al Carmine i risultati del progetto in comune, formazione e aggiornamento per dipendenti pubblici, grazie al quale 75 dipendenti di 4 comuni della provincia di Agrigento hanno acquisito nuove competenze nel campo dell'accoglienza dei migranti. I comuni coinvolti sono quelli di Licata, Palma di Monte Chiaro Ravanuse e Campobello di Licata. Un progetto in merito a quello che era un percorso di miglioramento dei servizi presenti sul territorio per gli immigrati e al contempo di riqualificazione del personale sulle tematiche inerenti alla normativa specifica per i immigrati e poi le lingue maggiormente parlate nel territorio dagli esternieri presenti. A tal fine si è posto in essere un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno che fa parte del FEI, cioè il Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini appartenente ai paesi terzi. Quindi i partner del progetto sono stati il comune di Licata come ente capofila, la CURS come ente esperto negli aspetti tecnici e operativi del percorso. hanno aderito come partner esterni il comune di Palma di Monte Chiaro, di Campobello di Licata e di Ravanusa. Il progetto, presentato dal comune di Licata in partnership con la Compagnia Universitaria di Ricerche Sociali, è stato finanziato nel 2014 tramite il Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi dal Ministero degli Interni. Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre presentato il network appena costituito tra comuni, associazioni di volontariato, scuole e comunità di accoglienza. Alla conferenza erano presenti il sindaco Angelo Cambiano, il referente del comune per il progetto Carmelo Chipindi, il coordinatore del progetto Cinzia Mesi, il responsabile amministrativo Francesco Melodia e il responsabile per la creazione del network Giuseppina Rosa. La riqualificazione è stata rivolta a tutti e quattro i comuni che hanno partecipato a tre percorsi formativi ciascuno di 25, rivolte a 25 dipendenti per un totale di 75 soggetti. Le tematiche sono state appunto, un gruppo è stato formato sulla normativa e l'inglese, un altro gruppo su normativa e arabo e poi infine normativa e francese, cioè le lingue maggiormente presenti. Alla fine di questo percorso di riqualificazione una parte di questi dipendenti che hanno partecipato al percorso di formazione hanno partecipato a un ulteriore training sulle buone prassi per le politiche e l'integrazione allo scopo proprio di creare e far rimanere come organo permanenza sul territorio una consulta, un network per gli immigrati. In provincia di Agrigento ci sono le pensioni più basse d'Italia, una media che continua a scendere sotto i 1000 euro al mese innalzando così il livello di povertà dei pensionati e quanto emerge dalla rilevazione annuale sui trattamenti pensionistici e sui loro beneficiari condotta dall'Istat e dall'Inps relativa all'anno 2013. Tra le principali cause delle pensioni più povere ci sarebbe il lavoro nero ma anche una spesa sociale inferiore in Sicilia rispetto a quella di altre regioni. È di 13 mila euro il reddito pensionistico calcolato nell'Agrigentino con valori medi inferiori di circa il 38% rispetto a quelli di Roma dove si registra il più elevato reddito pensionistico medio. Sulla riforma buona a scuola i Cobas non si fermano e annunciano la protesta non va in vacanza. Iniziative di lotta si svolgeranno nei prossimi giorni in tutta Italia con Palermo in primo piano che ha accolto in questi giorni Giannini e Faraone in turnè. E in occasione del voto finale alla Camera il 7 luglio manifesteremo dichiara Piero Bernocchi, portavoce nazionale Cobas, insieme alle scuole, alle RSU e agli altri sindacati a Montecitorio per esprimere ancora una volta e con ancora maggior forza la nostra indignazione e rabbia contro la sciagurata arroganza governativa. Partirà da Alicata il primo luglio prossimo il Festival Internazionale del Cinema Itinerante contro le Mafie. Sarà proiettato il film Le Mani sulla città di Francesco Rossi. Sentiamo i particolari in questo servizio. Partirà il primo luglio da Alicata la decima edizione di Libero Cinema in Libera Terra, il Festival Internazionale di Cinema Itinerante contro le Mafie, promosso da Cinema Mobile Foundation con la presidenza onoraria di Ettore Scola e da Libera di Don Luigi Ciotti. A Alicata, presso l'Oasibice, sulla spiaggia della Playa, a partire dalle ore 21 si potrà assistere alla proiezione di Le Mani sulla città di Francesco Rossi, che a distanza di tanti anni rimane drammaticamente attuale per i valori che rappresenta e per l'impegno civile d'inchiesta contro le devastazioni prodotte nelle nostre città dalla speculazione di Lizia. La proiezione del capolavoro di Rossi sarà ripetuta anche a Parigi il 15 ottobre per l'ultima tappa della manifestazione. L'importante evento, gratuito e aperto a tutti, organizzato in collaborazione con l'Associazione a Testa Alta, si aprirà con Mafia Liquida, performance di Vito Baroncini tra cinema, fumetto e lavagna luminosa, e vedrà la partecipazione e quali relatori sul tema Beni confiscati, stato attuale e prospettive future, di Salvatore Vella, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, di Ferdinando Offria, docente di politica economica all'Università di Messina, di Umberto Di Maggio, coordinatore regionale di Libera, e di Elisabetta Antognoni, presidente di Cinemovell Foundation, di Sabrina Peritore e Maurizio Salamone, entrambi dell'Associazione a Testa Alta, protagonista di importanti azioni di denuncia e di promozione sul tema dei beni confiscati nel nostro territorio. Nuova occasione di incontro pubblico il 30 giugno alla Biblioteca Comunale di Licata per rivisitare la rivolta del 5 luglio del 1960. Acqua e luce Licata non ne produce. Questo è il tema e il titolo della conferenza che avrà inizio alle 17.30, organizzata da Gaetano Cellure e Lorenzo Peritore e aperta alle testimonianze e ai ricordi personali di quanti hanno vissuto la giornata tumultuosa e tragica di 55 anni fa, nonché alla sua interpretazione storica. Durante i tumulti perse la vita un giovane licatese, altre sette persone rimasero ferite. La conferenza del 30 giugno si inquadra nella rassegna appuntamenti di storia moderna e contemporanea. Adesso ci fermiamo, diamo lo spazio alla pubblicità. A tra poco. Questo programma è offerto da Cioccolato Gombe, esclusivista a prodotti Michelin, in Biagela Alicata. Mino a 50 buoni motivi per non aspettare i saldi. Solo da Migotex. Alicata Alicata domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28 gradi, la minima di 20 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord, al pomeriggio moderati e proverranno da ovest e sud-ovest. Mare poco mosso. Umidità oscillante tra il 42 e il 74%. Questo programma vi è stato presentato da dal fratello Antone. Grande la qualità, grande la scelta di piccolo, c'è soltanto il prezzo. Scusate se poco. Nuova il sombrero, strada statale 115, contrada a Saffarello, Alicata. Avranno inizio il 4 luglio prossimo presso il Santuario Diocesano di Sant'Angelo di Licata le celebrazioni in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo che si concluderanno il 25 luglio prossimo. I particolari nel servizio. Si svolgeranno dal 4 al 25 luglio prossimo le celebrazioni in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, protettrice dell'Ordine Carmelitano, presso il Santuario Diocesano di Sant'Angelo, dove assede il Terzo Ordine Carmelitano di Licata. Nella circostanza dei festeggiamenti lo stesso sodalizio rende noto ai fedeli che dalle ore 12 del 15 luglio alle 24 del 16, festa della Madonna del Carmine, si può acquisire l'indulgenza plenaria una volta sola visitando la Chiesa, oppure l'oratorio pubblico semipubblico del primo, secondo e terzo ordine dei Carmelitani. Questo è il programma delle celebrazioni a Sant'Angelo che avranno inizio il primo sabato del mese di luglio, giorno 4 alle 18.30 con la traslazione del simulacro della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo all'altare maggiore con la processione interna e a seguire la celebrazione eucaristica. Da martedì 7 a mercoledì 15 luglio il novenario della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, dalle 9 alle 11 le confessioni presso il santuario, alle 18.30 Santo Rosario e la novena della Madonna del Carmine, alle 19 la celebrazione eucaristica. Le celebrazioni proseguiranno lunedì 13 luglio con il trido, alle 19 la celebrazione eucaristica che sarà ufficiata da Don Salvatore Cardella con l'imposizione dello scapolare ai fedeli che ne fanno richiesta al Terzo Ordine Carmelitano. Martedì 14 luglio la celebrazione eucaristica sarà ufficiata da Don Angelo Pinta Corona con l'affidamento alla Vergine Maria dei bambini aderenti al Fiore del Carmelo. Mercoledì 15 alle 19 la celebrazione eucaristica sarà ufficiata da Don Salvatore Licata e la missione al noviziato dei fedeli che hanno effettuato il cammino spirituale del carisma carmelitano all'interno del Sodalizio, alle 20 i Vespri Solenni in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Giovedì 16 alle 11 la celebrazione eucaristica preseduta da Don Angelo Capitano con il rinnovo della promessa da parte dei confratelli e delle consorelle dell'Ordine Carmelitano, alle 12 la supplica alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. I festeggiamenti si concluderanno l'ultimo sabato del mese 25 luglio con la celebrazione eucaristica e la riposizione processionale del simulacro della Madonna nella cappella dedicata. Con le festività in onore del Santo Nero torna il premio fotografa alla festa di San Calogero. L'iniziativa ideata dal giornale internet Grigentooggi.it in collaborazione con Federalberghi è giunta alla sua quinta edizione ed anche quest'anno si arricchisce della collaborazione dell'associazione DIN 24, fotografi della città dei templi. Le foto, così come previsto dal regolamento del concorso, verranno utilizzate per scopi di promozione turistica, un modo per raccontare le tradizioni attraverso gli scatti dei lettori. Inoltre un'importante occasione per creare promozione turistica a costo zero per chi si fa carico di organizzare la festa di San Calogero. Le foto dovranno raccontare la settimana della festa di San Calogero 2015 attraverso gli occhi del pubblico e saranno quotidianamente pubblicate sul giornale e messe a disposizione degli organi di informazione. Nell'ambito del progetto CRIM SAFRI si è svolto alla Camera di Commercio di Agrigento un incontro per possibili aree di collaborazione tra il centro di ricerca italo-maltese sulla sostenibilità energetica, il prestigioso centro di ricerca della Commissione europea. Il progetto CRIM SAFRI che si avvia verso la conclusione è affidato ad un cartello trasnazionale composto da soggetti pubblici e privati che vede come capofila il Dipartimento Urbanistica, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana. Lo sport e il basket è stato diramato l'elenco delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie C Silver di basket maschile. L'unica grigentina è la studentesca Alicata. Il servizio di Giuseppe Cellura. C'è il comunicato ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro per quanto riguarda l'assegnazione del diritto sportivo per prendere parte alle gare della Serie C Silver per la stagione 2015-2016. Tra queste figura anche la studentesca Alicata che ha centrato il salto di categoria dopo il play-off con la Virtus Canica T. Sono 15 le squadre che si daranno battaglia nella C regionale. Oltre alla studentesca, unica formazione grigentina, ci sono due ragusane, la Vigor Santa Croce Camerina e il basket Ragusa. Sei squadre della provincia di Messina. Patti, mini basket Milazzo, Spadafora, Capodorlando, Peppino Cocuzza di San Filippo del Mela e lo sport Messina. Tre le catanesi, basket Cireale, Gravina e basket Catania. Due le palerbitane, Green Basket e Zanella Cefalù. A chiudere il conto l'unica siracusana, la polisportiva retusa. Sarà pertanto un campionato tutto siciliano, ma alla luce delle avversarie sarà sicuramente un torneo impegnativo per la studentesca Alicata del direttore sportivo Dario Provenzani. E prima di chiudere ci uniamo al dolore della famiglia del comandante della polizia municipale Giovanna Incorvaia per la perdita prematura del figlio Agostino Di Salvo. I funerali avranno luogo oggi alle 18.30 in Chiesa Madre. E tutto il telegiornale termina qui, grazie per la cortese attenzione, l'appuntamento e alle prossime edizioni. Arrivederci.